Io sono pronto, ho paura di romperti qualcosa perché quando faccio l'intro do pugni, però non fa niente, è vero se rompo? Ti prego non farlo che sono un perfezionista No, ma te... No, ma se ne vedo una roba... Ma va che il tuo mondo non resta invariato, questo è un server Io posso distruggerti tutto e il tuo mondo resta invariato Mamma mia... Ma iniziamo, altrimenti... Ciao, proprio Ok, 3, 2, 1... Ciao a tutti... Anzi, no, aspetta, mi è venuta un'idea, scusa Mi è venuto male Oh mio Dio, dove mi trovo? Cos'è successo? Che cos'è questa stanza? Chi sei? No, 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 no Oh mio Dio, cosa è successo? Ti ho rapito, sei qui, sei il mio prisioniero Non puoi andare da nessuna parte, hai capito? Ma chi sei? Se provi a scappare Ragazzi Un pollo mi ha rapito Un pollo mi ha rapito E' uno scherzo Ciao bella faccia Grazie Ragazzi ci troviamo nella vanilla di bella faccia Uno youtuber troverete il link del suo canale Qua sotto in descrizione Lasciate un bel mi piace per questo video Perché oggi andremo ad esplorare un mondo fantastico E sicuramente migliore del mio Perché lui a differenza mia sa costruire Adesso non esageriamo Eh guarda questo è il suo magazzino Ecco Ho un po' una mania di avere sempre le casse ordinate Ecco e io adesso sai cosa? Non mi rubare Non mi rubare Si è fortunato che sei in creativa Hai capito? Allora portami fammi fare un giro in questa tua vanilla Allora come potrai ben notare Questo è il magazzino Qui non notare Non badare a questo pappagallo che fa sempre il verso del creeper E mi spaventa sempre Come fa il verso del creeper? Fa il verso del creeper Fa proprio Sì sì Aspetta Di qualcosa? Ti sta guardando malissimo proprio Mi sa che è timido Mi sa che è timido Se ti sposti Se ti ziri di schiena Lo fa quando sei girato Ok aspetta aspetta Ma non è vero Stai mentendo Mi sa che gli stai antipatico Sì Eccolo hai sentito? No non l'ho sentito Ma cosa dici? Stai delirando Allora Allora Prego Scusa Di bella faccia Qua puoi notare Ogni tanto vedrai uno standard del pollo Ma non preoccuparti Perché qui comandano i polli Ma ti somiglia? Sì mi somiglia Hai visto? Mi somiglia tantissimo Allora Poi andiamo Qui non c'è nulla Ah qui non c'è nulla più C'è solo la stanza Qua è dove la magia accade Ok va bene Dove la magia accade Ok Allora Facciamo una cosa Adesso usciamo Sì E il mondo sotterraneo Magari lo vediamo più tardi Perfetto Anzi Anzi Facciamo contattati Oppure dividiamo questo video In quattro episodi? No Non sto scherzando In dieci Allora Prego Cominciamo Sì Allora come Dove riprima C'è la fornazza automatica Lì e l'hai già vista Qua Qua cosa c'è Qua cosa c'è Come puoi notare C'è un cartello Narnia Narnia Ok Sei visto Narnia Il film Sì Ma stai scherzando? Oh mio Oh Che figata Ho cercato di ricreare Narnia Qua siamo da Olaf Qua siamo da Olaf E vende delle palle di neve Che le ho rinominate In un modo un po' particolare C'è proprio la faccia stupida di Olaf Guarda Ciao Olaf Come stai? Quindi anche tu C'è qualche personaggio Nella tua vanilla Io c'ho Billy Tu c'hai Olaf Sì io ne ho parecchi Molti animali Perché io sono amico degli animali Beh sei un pollo Io sono il pollo che comanda Eh ok Cosa vorresti dire? No no Non era un insulto Nel senso Ok Ma scusa un attimo Cos'è Perché hai quella schifezza in testa? Cosa c'è? Ah scusami No guarda Ho rinominato Tutta la corazza Come puoi vedere Come puoi vedere Corazza di legno? Perché il legno è il mio blocco preferito E allora ho voluto rinominare Ok però per questo video Dovrei metterti del metto in ferro Chiaro? Ok Aspetta lo prendo Dove lo metto in ferro? Ok Non lo so Per far piacere a Kendall Metteremo Eccola Perfetto Adesso sei guardabile Dai forza Ok Ecco qua Come puoi vedere Io ho anche lo scopo È bellissimo Questo te lo rubo Stenotte Allora qua puoi notare Una piccola sfumatura Si sta cambiando completamente Di biomi Perché qua ho voluto ricreare Una specie di osi Sotterranea Allora qua Wow Hai me come guida Quindi non ti perdi Allora andiamo qua A sinistra Perché mi perdo anch'io Ok Ma a sinistra Ma questa è destra Ah qua a destra scusa Oggi qua non mi sbaglio anch'io Senti io sono le ali Non ho le ali Ma hai fatto veramente tu Tutta sta roba? Ho fatto io tutta questa cosa Come puoi ben notare Stai bene? Tutto ok? Ho assunto dei medicinali Perché sono diventato pazzo Però dopo aver costruito Tutta questa cosa Wow Allora Allora No 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 In questo video durerà 40 minuti Comunque Passiamo nel bioma del deserto Come puoi vedere Perché mi piace ricostruire Ogni singolo bioma Ecco qua visto che abbiamo l'occasione Ho creato una piccola farm Ti ho perso Dove sei? Ah ecco ti Non ti perdere Ok Stai attento perché ci sono gli spiriti qua Potrebbero Ma cosa? Potrebbero Perché è pieno di Eh qua c'è un po' C'è un po' di confusione qua sotto Perché guarda Rimani lì Rimani lì dove sei adesso Ok Io cliccando questo pulsante Faccio in modo che tutti gli animali Stanno volando Oh mio dio Cosa? È una festa Che tutti gli animali Grazie all'acqua Diciamo che Si alzino Ok Ma quanti sono bellini È tutto molto Viola Sì qua Ho voluto Mettere il viola Perché mi piaceva molto Diciamo il colore Fra I blocchi del deserto Il viola Ok Qua sopra Non c'è nulla di che C'è solamente un ascensore Va bene quindi non c'è Ah ok C'è solamente un ascensore Sì un ascensore Non lo so Saliamo o Cosa? No andiamo Andiamo via Andiamo via Ok va bene No cosa? Qua c'è una farm di cetrioli Automatica Puoi attivarla dalla Cosa stai? Eh Non ho fatto niente Non ho fatto niente Non sono stato io Allora Faccio finta di non aver visto C'è una farm di cetrioli Ma da quando è qua esistono i cetrioli Su Minecraft? Per fare l'insalata Perché ogni tanto mi piace mangiare l'insalata Guarda Sì a me pure col pollo Primi quella Cosa? Come? Cosa hai detto? Non ho detto niente Ok C'è una spalla No 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 Ok hai attivato la farm Fa un po' di confusione Però come noterai Qui ogni tanto Vengono spediti nella cassa Dei cetrioli Adesso non so perché Secondo quale magia? Allora Secondo la magia Che Ci sono dei coralli Dei blocchi dei coralli E Grazie a un meccanismo La farina d'ossa Fa nascere I cetrioli Perché lì ho messo Un cetriolo Che non si vede tanto Ecco vieni qua Qua dietro puoi vedere Tutto il circuito Vai Allora No non si vede tanto bene Comunque sia È affascinante come tu abbia Una spiegazione scientifica Per tutto quello Che c'è in questa magia Scientifica Se vuoi chiamarla Se vuoi chiamarla così Aspetta Aspetta Qui c'è una farm Normalissima Di alghe Con lo stesso Normalissima Con lo stesso principio Delle canna Chi non ha una farm Di alghe Nella propria vanilla Normalissima Dai veramente Voi non ce la avete ragazzi È normale E vabbè Qua puoi notare sempre Il tema Molto carino Questo mi rilassa molto Questa cascata E qua ancora siamo a Narnia Cioè ancora Questa non è la tua vanilla No 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 Qui Narnia L'abbiamo superata Ah ok Qui questo è il mio acquario Personale Con i pesciolini dentro Bellissimo Uh aspetta Oh cacchio No non sono stato io Non ho fatto niente Scusa Ho visto un pesce bello Quindi lo volevo prendere Allora mio caro Kendall Qua c'è una faccia Di un villager Guarda È bellissimo Ciao E come Ma è lui Questo è bel testone Che è il guardiano Questo è bel testone Ho voluto chiamarlo Ciao a piacere Scusa Ah no vi lascio Vi lascio discutere Sì sì Ciao ci vediamo dopo E qua dentro Ho imprisionato In modo molto macabro Ma poverino I villager Questo è il cartografo Ad esempio Ma come mangiano Come vanno in bagno Stavo morando Scusa No non ti preoccupare Mangiano che ogni tanto Gli tiro del grano Però Vabbè Il grano Ma che schifo Ma chi è che si mangia il grano Allora qua C'è una cosa molto carina Sì Ti piacerà di sicuro Allora La prigione No Questa No Si sembra in stile prigione Però qua ci ho messo abbastanza Per creare questo corridoio Aspetta aspetta fammi indovinare Fammi indovinare Credo sia tipo Un coso con la faccia del pollo gigante Ma l'hai già visto Ma l'hai già visto Scusa Vai Allora qui È un po' la periferia del mondo Sì Non vedo nessuno però Clicca con la leva Questa Ho paura Il pollo si è appena aperto Possiamo entrare Sì vai Addio No 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 Lo sapevo Sai cosa Io ti spacco tutto Ti spacco Imprisonato Ecco facile Allora vieni Non ci perdiamo Ah non c'è nulla Allora qua sotto C'è un piccolo corridoio Molto decorato Molto stretto Molto decorato Tra l'altro questo mondo lagga Tipo tanti Vabbè in realtà ora sto facendo Appena l'ho detto 1300 fps Però Stai laggando? No non sto laggando Allora qua Ti faccio Wow Questa è la farma Semi automatica Di verruche del nether E guardi in alto Guardi in alto Pioggia di verruche Dio Ma che schifo le verruche Ma chi vuole le verruche Le verruche Vuoi un po' di verruche Kendall? Ma adesso come li che escono? Adesso è una cosa molto noiosa Perché io ogni volta Devo ripiantarle così Sai che puoi volare Vero? Sì ma questo mondo In survival Non è in Vabbè ho capito E prendi Prendi le tue verruche Hai capito? No ma non le voglio Mamma no Per favore le verruche no Verruche di piedi mi sa Che schifo Ok allora Tornando su Sì Rifacciamo tutta la strada Andiamo 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 Adesso Ti faccio vedere Ti faccio vedere Un po' di passaggi segreti No Allora Qua è la farm di binari Che non funziona più Questa qua Chi non ha la farm di binari Sì scusa dicevi Cos'è ha detto una farm di archi? No no binari binari Ah una farm Avevo capito farm di archi No no Qua c'è la farm di canne da zucchero Vabbè questa è normale Questa è la farm Questa è la farm Cioè la farm È la stanza delle pozioni I fiorellini Questa è la farm di fiori Che qui ecco Qui c'è una leggenda Molto particolare Perché se provi Se provi a notare Provi a sentire Il suono Di tutti i fiori Ha lo stesso tic Prima di questo qui Prova a premere quello Questo ha il turbo Questo ha il turbo E perché? E non so perché Non ho mai capito il perché Però ci piace così Proviamo a vedere Ragazzi ovviamente Siamo in un server Quindi quello che rompo Non resterà rotto per sempre Poi nel suo mondo Possiamo proprio Ok Mi è venuto un attimo Di follia Ok Sì sei un po' un pazito Ok allora Ma Ma Perché questi non hanno l'elmetto? Questi sono i guardiani zucca Ah ok Qui non siamo nel mondo di Kendall Siamo nel mondo di Bella Faccia Quindi È vero Hai ragione Comandiamo noi Cosa spingi Comandiamo noi E aspetta come puoi notare Qua siamo tornati Dove c'era Il reparto cest Ah Quindi abbiamo fatto tipo un giro Ok Adesso ti faccio vedere Anche un altro passaggio segreto Molto carino Vai Perché le cose non sono finite No certo Come puoi notare qua C'è una cosa molto strana E tu mi direi Un labirinto Come faccio ad arrivare No non è un labirinto Questa è una farm di pecora Una farm di pecora Che ho ideato io però Non è diciamo Molto comoda a volte Dove sei? Qua qua Io do da mangiare Alle mie pecora Sì Mi faccio un esempio Magari prendiamo Prendiamo del grano Ecco Sai che sei in creative? No Sì Me l'ho scordato Ecco Io ad esempio Del grano Do da mangiare Ad esempio A queste pecora Ok Ok Andiamo da mangiare A queste pecora Anche io faccio Bla 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 Quando do da mangiare Alle mie pecore E una volta che Si sono riprodotte Io scendo qua sotto Scendiamo Ma come aspetta Mangiano e si riproducono? Sì si riproducono Ah funziona così? Sì si riproducono E dovrebbero cascare I piccolini qua sotto Sì perché? No no Non si riproducono Le pecorelle? Sì mangiando Si riproducono Mangiando si riproducono Sono contente Ah ma i piccolini muoiono? Sì i piccolini Cascano qua Ma sei un assassino? Io con l'uso della spada Abbiamo capito Ma sei cattivissimo Eh ma io dovrò Pur sopravvivere Guarda qua Cos'è lì? Dove? Cos'è c'è lì? Lì sopra Dove? Ma guarda Sparisco C'è il tuo testone Oh Dove sono andato? C'è un carrello Da minire Come hai fatto? Col destro Clicca col destro Ecco No che figata Ok guarda qua Diciamo Adesso voliamo Qua puoi vedere sotto Tutta la farm di pecore E con questi binari Andiamo direttamente Ecco qua ho voluto fare Un pavimento Un po' più particolare Si con l'erba No di grano Vabbè di grano Ok Qua c'è la mia farm di neve Con bastoncino Ah no bastoncino Questo è bastoncino Scusami Come ho fatto a sbagliarmi E pieno di amici Ok poi qua Devo fare ancora le stanze Qua sopra Andando qua sopra Si fa un po' tetra La situazione Eh si lo vedo Qua c'è la farm Ho trovato uno spawn Di zombie E' molto Molto normale Oh ho spaccato I zombie Vengono qua E io grazie alla spada Li uccido Molto tranquillamente E prendi tutti i loro drop Inutili Inutili Aspetta un attimo Non glielo dite per favore Cos'è 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 Niente Nulla Nulla Guarda che lo vedo nel video Se hai preso qualcosa Dopo Non ho preso assolutamente nulla Ok mi fido Mi fido Proseguendo qua Per questa scalinata Si Per Se sei Ah così si fa Devi rompere Non l'avevo ancora finito Qua ho costruito Sto iniziando a costruire Diciamo Una casa dentro la montagna E qua vedrai E qua vedrai tutto il mondo Che non hai ancora visto Te lo spoileri un po' Però va bene così Ma questo video durerà 40 minuti Veramente mi sa Ragazzi se siete arrivati Fino a questa parte Lasciate un bel mi piace Mi raccomando Allora Allora Adesso possiamo uscire Adesso possiamo uscire che ti faccio vedere l'esterno Altrimenti non finiamo veramente più Allora Volando Volando Mi segui Sei volando Si ci sono Sono qua C'è un mammut Oh mio Hai visto il mammut Allora Ma sei bellissimo Andiamo dal mammut Questo è un mammut Tu devi fare le build battle con me comunque Ok prego vai Continua Questo è un mammut Molto carino E là giù se puoi vedere Guarda dove sto guardando Io sono un elefante Ok questa Nè pensavo fosse una casa Da qua pensavo fosse una casa con un design fighissimo E' molto E' molto particolare La farm di legno Ma scava direttamente il legno no Ci sono tutti gli alberi No mi piace avere tutte le farm Voglio fare la collezione di farm Ok E questa era la mia ex Questa è la tua ex La mia ex farm Di animali Vi siete lasciati Si ci siamo lasciati Non mi piaceva E questa è proprio una farm di tortura Di mob Comunque sia Ecco qua c'è una statua dove Vabbè Una statua dove tiene un asciugamano L'asciugamano Ma non è un asciugamano Ogni tanto devo fare la dozza Allora mi tiene l'asciugamano pulito Ok Questa è la chiesa Guarda questa è molto carina Questa è la chiesa del pollo Questa è la chiesa del pollo La chiesa del pollo Puoi vedere qua che ci sono i quadri con le omelette I quadri con le omelette Ma quello Ma è sicuro che quello è un omelette? Si si è un omelette Ok Qui c'è il pollo Con gli standardi E questo è il chierico Che fa le messe del pollo Ogni tanto non è molto affollata Cosa è successo? Non è molto affollata Però solitamente qualche pollo viene qua Beh Olaf ogni tanto verrà penso Si Olaf ogni tanto verrà Ogni tanto si fa La domenica si fa la visitina La domenica Ma no Questa è una mini farm Cioè non è una farm Certo Pareva che poteva essere La casina delle tartarughe Ma quanto sono belline Sono carine Andate in acqua tartarughe Andate in acqua No poverina Vai in acqua Come poverina Ma si sta divertendo Si fa il bagnetto Ci sono 45 gradi qua fuori Vai vai Fatti il bagnetto Fatti il bagnetto Eh potresti consigliarmi un nome Per una tartaruga Ecco potresti consigliarmi Un nome per la tartaruga Tarta Tarta E l'altro la chiami ruga Facciamo finta di non aver sentito Dai Vabbè L'elefante Ti piace più L'elefante o il mammut No il mammut Il mammut è più bellissimo Allora qua Questo Dove qua È una storia Un palloncino Breve storia triste Era un palloncino Con una mushroom legata E la mushroom è morta E il palloncino ora è scoppiato Il palloncino adesso è lì Ok Adesso Non c'è più Ma mi distruggi tutto Non te l'ho rotto io Allora Adesso questa È una delle prime costruzioni Che ho fatto io Perché tutto questo che vedi Diciamo tutta questa Le murali Zolla di terra Non c'è L'ho creata io manualmente E questo Come si può dire Sì diciamo che l'avevo intuito Perché non ho mai visto Una roba del genere Su minecraft Quindi Avevo pensato Ma forse l'ha fatto lui Questo è un passaggio sotterraneo Ok E questo Mi piace veramente tanto Mi piace Mi piace tantissimo Carino Aspetta 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 C'è un passaggio segreto Questo Questo qua E aspetta aspetta Come puoi vedere Intanto sia Come puoi vedere Non si richiude Il meccanismo Perché ho fatto in modo Perché ho fatto in modo Che il pulsante Abbia la stessa La stessa funzione Della leva Sì E qua è semplicemente Una stanza Per incantare Scusa Cosa Ah ma sei bloccato là Ciao No ma l'hai rotto Sì l'ho rotto Non volevo stare lì rinchiuso Mio dio Ma che ci abbiamo qua fuori Allora quello Credo sia tuo figlio No No Questa è una statua In onore del pollo Perché il pollo È sacro Io lo mangio tutti i giorni No Non è vero Cosa hai detto No 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 Mai mangiato il pollo In vita mia Mai Allora questa è la statua Di chi Eh non lo so Cos'è un vomito Cosa Ah Non lo so È verde Te lo faccio vedere Questo è un amico No Questo è il signor salmone Salutalo Ciao signor salmone Signor salmone Questo è il signor salmone Il signor salmone Ogni tanto fa dei versi strani Mi aiuta a costruire Pure lui Sì I versi del creeper Sì No lui fa i versi un po' Un po' strani Tipo Non parla I salmone Fa un salmone Sì Aspetta ma questo è l'elisir di lunga vita Ah mi ci riuscì il bagno Questo guarda Se va in alto È un cuore Sì no l'avevo visto Era già così C'era già un cuoricino così con l'acqua Ho deciso solo di metterci il rosso Perché mi piaceva Cioè io trovo le croci nel mio mondo di Heroblind E lui trova i cuori Ma vi sembra giusto Perché il mio mondo mi vuole bene Qua puoi notare che c'è un ascensore Che si chiama Apollo Apollo ti spedisce presumo Dove ti spedisce Mettiti Te ti devi posizionare qua No No Sì lì E io ti premo quello E ciao Houston abbiamo un problema Oh no Dove sto andando Oh no E io ti vengo a fare compagnia volando Perché ci sarà un po' di confusione Con questo ascensore Ma come faccio a volare Ma ti porta direttamente Ti porta direttamente Sulla luna Grazie a dei pistoni Se io non avessi fatto Diciamo Una piattaforma per fermarlo Tu saresti volato all'infinito Quindi addio Kendall Possiamo provarci Possiamo provare ad andare sulla luna Con l'Apollo 11 Vuoi che rompo? Vabbè ok È parecchio lento Quindi aspetta È un po' lentino E qua c'è una farm normalissima Che ho fatto ovviamente Tutta in survival Perché vedi L'osservatore ha la faccia molto carina Ma l'osservatore sono io Io sono colui che osserva No l'osservatore è quello Non puoi fregare Aspetta ma mi schiaccia secondo te? Prova Vediamo Aia 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 Ah Mi sono bloccato Ma c'è pure un furgoncino Allora questo è il furgone Per portare le angurie Come puoi vedere Ma sai guidare Hai la patente? Eh sì guarda Come puoi vedere C'è anche la targa SMR San Marino Perché vogliamo Vogliamo farsi riconoscere Giusto Allora come puoi vedere Qua ci sono dei carrettini E questa è una casa Molto Eh Candle No cosa? Ok Ok No Non ho visto nulla Allora questa è una casina Molto tranquilla Con un balconcino Se un giorno decidessi Di venirmi a trovare un'altra volta Questa sarebbe la tua casina Degli ospiti Cioè seriamente? Tu hai Tu hai un mondo gigante Con 45 case Dungeon E poi mi dai Quella casetta Quella catapicca piccola piccola Perché te la devi guadagnare Perché te la devi guadagnare Ok ok Allora qua ci sono altre due casettine Nulla di che Eh là non ci posso andare Sì possiamo Possiamo anche vederle da fuori No nel senso non mi ospiti qui Questa è un po' È un po' strana Ecco Aspetta Questo è un membro È un membro Walling È il primo animale che ho avuto Ma è bellissimo È il mio cagnolino È veramente bellissimo Posso carezzarlo? Sì No Eh Eh Cosa? Ho provato ad accarezzarlo Walling Cosa t'ha fatto? Tutto bene Tutto bene Tutto apposta Esci non ti vogliamo Va bene Ok Via fuori Pensavo di darti questa casa Ma guarda Ti do questa casa Ma no è vero stai mentendomi Volevi dare quell'altra Ti do questa qua che è la casa dei pappagalli Adesso condividi la casa con i pappagalli Ma io non sono un pappagallo Adesso si seguirà anche Walling Ma questa è la casa Ho fatto anche una casa per i pappagalli Ok? Certo Ok Normale Ok Giusto Sì sì Allora Adesso È finito il mondo No non è finito Non è finito Non è finito Abbiamo visto Dai Metà Siamo più della metà Metà Allora qua C'è un piccolo mulino Adesso guardiamo tutto molto velocemente Ma se invece fosse stato grande sarebbe stato un mulone Sì un mulone Il mulo Ci sono le farm Oh mio dio che lagata che ha tirato Questa qua è una casina dedicata alla farm di pesca Qua dentro c'è una farm di pesca normalissima Ah pensavo pesca il frutto No Sarebbe bello che l'aggiungessero Sì è vero Comunque sia puoi vedere che tutta la città diciamo interna è protetta da queste piccole mura Che sono bellissime tra l'altro Sì sono molto piccoline però Sì sono carine Beh diciamo che i nani puoi stare sicuro che non ti verranno a distruggere il mondo Possiamo chiudere con questa cosa qua Vieni seguimi Ok Cos'è? Che è la mia skin No vabbè La mia skin dentro una montagna che indica tipo là Guarda cosa c'è là Dove indica? Non lo so Ma indica me guarda Allora chi è lo youtuber migliore del mondo? Ah oh No questa te la copierò al 100% perché è bellissima Farò anche io una cosa uguale Uguale E niente io spero che il mondo ti sia piaciuto A me il mondo è piaciuto E a voi ragazzi a voi è piaciuto questo video e questo mondo Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Iscrivetevi anche a bella faccia perché potreste vedere tanti altri video in compagnia di questo altro youtuber Dal vostro candle E da bella faccia è tutto E noi ci vediamo domani No ragazzi E al prossimo video Ciao